Siamo pronti quindi per accogliere sul palco l'ardino bruciato. Martim Bruciat è un'attrice, cantante e scrittrice francese nata a Parigi e naturalizzata italiana. Da bambina in Francia studia danza classica, jazz e recitazione e fin da ragazzetta inizia a lavorare nel cinema, in teatro e in televisione. Esordisce nel cinema con René Clement, in Parigi in Brucia, e un François Profond, nei Baci Lupani. Nel 1970 si trasferisce in Italia dove gira vari film, tra cui la governante del 74, diretto da Giovanni Grimaldi, entrato dalla chiesa di italiano Brancati, con cui vince il treno la maschera d'argento. Tra i registi con cui ha lavorato in Italia possiamo citare ad esempio Freda, Lenzi, Martino, Vanzina, Brasse. Tra i film dei più importanti in cui Martim Bruciat ha recitato ma senz'altro ricordato Prigione di donne del 75, diretto da Brunello Ronni, Mannaglia di Sergio Martino del 77 e una spirale di nebbia, debitrando gli scontri dello stesso anno. Importante presenza anche nel 91 in patica, con Tinto Brass e il nuovo che guarda del 94. Attivissima anche in teatro con Garninè e Giovanini e in TV con Belami, i Promessi Sposi, Incantesimo, la squadra, il Peccato e la Vergogna. Si è cimentata come ballerina nel bagattino in Epperti suona la campanella di Castellacci Fingitore, andata in onda negli anni Ottanta su Rai 2 insieme a Pippo Franco, Leo Bullotta e Oreste Lionello. Ha fatto parte della giuria tecnica dei 400 corti film feste. E negli anni Novanta si cimenta la pittura e nella narrazione di favole, pubblicando vari libri per bambini, La Gallina Blu e altri racconti del 95, Zaffiretto e il Vampiretto e altri racconti del 99 e Le Faure della Gallina Blu del 2016. E inoltre ha saputo interpretare un'epoca della nostra storia con l'ironia e la grande abilità di personaggio polietrico, divenendo testimone della sinergia possibile tra una profonda umanità e sensibilità per il prossimo, unita alle altre capacità artistiche. E intanto nel 2013, a seguito di una grave malattia, pubblico un libro proprio grafico dal titolo «I miracoli esiscono solo per quelli che ci mettono». E questa è un'opera che affronta con dignità e sensibilità cristiana il racconto interiore della sua vita. Martin Brouchard è assoluto sensato interpretare un'epoca della nostra storia e come emerge anche dalla piacevole intervista di Fernando Mariani, la Brouchard è senz'altro una donna di grande talento, soave femminilità e raffinata eleganza naturale. Un'artista che è un esempio di serenità interiore e forza d'animo. Grazie di esserci. E' bello, tu sei bella, lo hai e lo sei ancora, bellissima, ma non soltanto bellissima perché hai un'intensità che si vede anche dalle foto e ti è rimasta. Questo è l'abbraccio che vedete. E' bello sentire tutte queste cose e vedere la tua esperienza. vita, così, raccontato in un attimo dove c'è tutto quello che è successo. Sì, mi fa molto piacere, grazie. E poi volevo dire che il cinema è un lavoro d'equipe. Non si può fare cinema all'attrice da sola. C'è tutta la gente intorno che quando c'è lo stop, che nessuno non può più parlare. Allora lì è meraviglioso perché cominci la tua scena c'è il regista che ti fa partire, il direttore della luce, Nino. Abbiamo fatto tanti film insieme. Ti fa i segni, per esempio, tu parli e hanno fatto un segno. La testa si deve abbassare, si deve rialzare. C'è la rivista che parte. E' un momento stupendo. E poi mi ricordo, Nino, questo momento meraviglioso con la camera famosa che si mette dentro, che non mi ricordo mai il nome. Ecco, di camera, sì. E mi ricordo questa partenza che era bello perché devi stare con il direttore della luce. Allora, comincia, ti guardi, ti segui. E' un momento fantastico, fantastico. Per questo il teatro, il cinema, non si può fare da solito. Non avresti potuto fare altro nella vita che come ne parli. Allora, passiamo alla consegna del premio e poi passiamo direttamente la parola all'assessore Lumina Trenta. a Martine Brociard, attrice e scrittrice che ha saputo interpretare un'epoca affrontando con sensibilità sia temi leggeri che esistenziali. A voi. E' molto bello questo premio, devo dire, per... Cioè, ricorda proprio quell'entri, è fatto benissimo, mi piace. Poi è una pellicola che sale. Bene, complimenti. A proposito del microfono, questa è la mia impressione. Questo microfono l'ho realizzato io pochi giorni fa. Una delle tante mie creazioni. Vai, Lumina, che dobbiamo recuperare. Bene, io credo fermamente che questo mantoncino l'abbiamo messo e ci abbiamo messo anche un po' di calcio. Mi sembra di capire che, insomma, abbiamo tutti gli strumenti, la volontà, la passione, le persone giuste per poter proseguire. Faccio una brevissima riflessione sul cinema, non l'ho fatto prima, però in realtà gli ospiti di onore mi hanno sollecitata e danno assolutamente ragione. Fissare un premio cittadino e lettere alla cinematografia e riconoscere in questo momento storico dove in realtà il mondo del web e i ragazzi vengono catturati sempre di più e allontanati è, secondo me, invece, proprio la chiave giusta. Noi stiamo lasciando la staffetta ai nostri giovani, i nostri ragazzi sono il nostro futuro e a loro noi dobbiamo trasmettere quelle che sono le nostre tradizioni, quelli che sono i nostri mestieri, quelli che sono i nostri obiettivi e l'idea che noi abbiamo di città. E allora è viva il digitale, ma è viva il cinema, è viva il teatro. Ogni volta che io entro e mi siedo, respiro e mi riempio gli occhi, la mente e anche i polmoni di cose veramente belle e buone. Ha ragione Martin, è un lavoro di squadra come dovrebbe essere qualsiasi tipo di lavoro. In ogni lavoro occorre avere la vicinanza di tutti, l'impegno di tutti ed è il concetto di squadra che all'amministrazione comunale di Velletri sta particolarmente a cuore. Questo premio ne è un esempio. Qui il concetto di squadra c'è. C'è il territorio, c'è il premio che rappresenta il nostro territorio, c'è la nostra consigliera, il nostro consigliere Cugini. Ci sono i nostri cittadini che ci aiutano a portare avanti il premio e c'è il Prode Ferdinando. Lo continuo a chiamare così perché l'ho conosciuto così ed è giusto che venga chiamato così perché lui ha questa caratteristica. Ognuno di noi dovrebbe avere la propria caratteristica che lo contraddistingue. E Ferdinando ha questa che è la capabilità, la passione, la conciutaggine, come si dice a venire, che è un po' anche tipica dei Velletrani. Quindi io credo che noi oggi abbiamo fatto molto, abbiamo veramente piantato un seme che può diventare una grande foresta. Io me lo auguro nuovamente, i miei complimenti vanno ripetuti. Abbiamo consegnato i premi con la rappresentazione ufficiale della nostra città perché ci teniamo particolarmente e quindi grazie agli intervenuti. Ora io non potrò godere dello spettacolo che arriva perché sono impegnata in un'altra manifestazione. Oggi sapete che noi stiamo inaugurando l'89esima festa del Lupe dei Vini. Abbiamo la città in fermento perché il nostro territorio è veramente fervido in continua evoluzione. Quindi mi scuso con chi mi vedrà uscire, non è mia tutela e non mi vedrà assistere fino alla fine ma sono sicura che lo spettacolo sarà meraviglioso e il regno di conclusione di questa giornata, di questo evento. Grazie. Vorrei solo dire che i ragazzi amano il cinema. Io per esempio ho un mio nipote che ha 15 anni è entrato alla Rossellini e vuole fare il cameraman. Questo già è una cosa positiva. E poi tutta la mia famiglia, mio figlio fa il regista, mia nuora fa l'attrice e la bambina più piccola ha cominciato a balare. Una catastrofe.